Un'unica tante nuove, cioè vi non mi dite conto che per esempio ha ricostruito la tazza pubblica con il bambino Chiarantino nel testo, il bambino del docente. Quindi è una cosa che è importante, come è fatto? Bene, si è utilizzato in versatio, quando si scrive, si conoscete, una copia del disegno di un bacetto, di questo bambino, viene ricaricato di ridisegnato quando noi ci scopriamo vuole distruggere questa faccetta, ma pensate a questo bambino, mentre non c'è inizia con la faccetta, d'accordo? No, no, scusate, no. Siamo finendo, siamo alle ultime due, scusate, 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 le ultime due e poi andiamo qui. Immagini, gettate sullo stando e l'ultimo è l'incontro fra Messalon. Allora siamo noi. Non mi faccio vedere altre cose in questo video. Vediamo, li metti a far ok. Andate o andate? Eh eh. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.